Vi siete mai chiesti se Paolo Fox è fidanzato? Ecco cosa ha raccontato il noto astrologo ai fatti vostri È considerato il re dell'astrologia e mentre dà consigli su segni, amore e fortuna per quanto riguarda gli altri, su di lui si sa ben poco Paolo Fox, la notizia stupisce tutti, web, in tutti questi anni, Paolo Fox non ha mai parlato della sua vita privata e nessuno sa se è sposato o tanto meno se abbia una famiglia Salvo sottile direttamente dai fatti vostri è riuscito in questa impresa, facendo svelare dettagli inediti a Paolo Vediamo insieme cosa ha raccontato.Il famoso astrologo ammette di essere single Paolo Fox non ha esitato questa volta nel rispondere al conduttore televisivo Il giornalista gli ha chiesto se in questo momento avesse una fidanzata e lui ha risposto di essere single attualmente sta bene con i suoi animali, che non lo guardano e non contano i follower, ha spiegato L'astrologo ha ben tre amici a quattro zampe che gli riempiono perfettamente la giornata, Hobbit, Quacker e Rio Paolo ha continuato ancora dicendo che ha sempre avuto un amore per gli animali, sia i cani che i gatti La carriera e la fortuna di Paolo Fox Pochi sanno che Paolo Fox prima di diventare un noto astrologo e di fare carriera in televisione aveva un posto fisso, come guardia forestale, che ha abbandonato Il motivo di lasciare il suo lavoro per dedicarsi ai segni e a tutto ciò che riguarda l'astrologia è stato proprio questo, seguire il suo sogno Paolo Sottile intervista Paolo Fox ai Fatti Vostri, web, un sogno che si è realizzato negli anni Ottanta, dove ha raggiunto subito il successo I primi passi in questo mondo li ha dati già alle superiori all'età di 16 anni Pochi sanno che Fox ha anche un'altra grande passione che è quella del ciclismo Quando gli è stato chiesto qual è una delle cose a cui non si deve proprio rinunciare, ha spiegato che per lui la libertà è fondamentale Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo del gossip ed è lo spettacolo continuate a seguirci sempre su Formato News Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!